Buonasera a tutti ragazzi, io sono Riccardo Zago di Investire.biz in questo breve video andremo a vedere tutte le operazioni che abbiamo impostato durante la sessione giovedì scorso per informazione, questa settimana la sessione la svolgerò giovedì dalle 19 alle 20 ma la svolgerò mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 questo perché giovedì e venerdì sarò alla borsa italiana e di conseguenza agli eventi dal vivo che tengono Luca ed Enrico e di conseguenza non riuscirò a fare la sessione come tutte le settimane infatti, eccola qui, la sessione si trarà il 26 ottobre alle ore 18.30, cioè tra due giorni detto questo andiamo subito a vedere le operazioni che ho selezionato per voi chi mi segue sa benissimo cosa stiamo facendo sul copper questa è stata un'operazione consigliata da un nostro utente che ci segue poi è stata seguita passo per passo l'ultimo consiglio che era stato dato era di posizionarsi short ad un eventuale rimbalzo proprio su questo livello guardate con che precisione è andato per poi ritornare verso il basso ora per un nuovo segnale di entrata bisognerà aspettare o un nuovo rimbalzo Kijun valido come tutti quelli che mi seguono sanno cosa intendo quindi rimbalzo Kijun valido oppure aspettiamo la rottura dei prossimi supporti ci aggiorniamo mercoledì e vediamo come impostare la prossima operatività le cose da vedere sono molte quindi passiamo subito a dollaro contro dollaro canadese ne parlavamo proprio alla sessione settimana scorsa eravamo intorno a questi prezzi avevo consigliato un long all'uscita di questa nuvola azzurra io personalmente non sono entrato come ben ricordate in quanto ero già esposto sull'oil crude al rialzo e di conseguenza non me la sentivo di andare ad operare anche su questo cross strettamente correlato inversamente Ichimoku comunque ci ha dato il segnale per chi fosse entrato ha fatto un'ottima operazione per quanto riguarda target e stop loss ci aggiorniamo mercoledì sera io qui ho errato purtroppo non sono entrato ma abbiamo molte altre cose da vedere quindi passiamo subito all'oil ormai sul petrolio sul US crude siamo dentro da parecchio tempo precisamente dal 13 ottobre qui l'operatività che ho impostato come ripeto e come ho ripetuto anche altre volte è diversa ci siamo basati più sulla stagionalità e su questo supporto caratterizzato da questa linea rossa che come vedete anche oggi ha funzionato alla grande speriamo in un rialzo del petrolio siamo dentro qui da molto tempo i prezzi continuano a lateralizzare ma speriamo che escano da questa fascia di lateralità e si portino verso l'alto con un target intorno ai 5400-5005 mercoledì vedremo sicuramente anche questo punto passiamo subito a euro contro sterlina anche su questo siamo dentro ormai da un po' di tempo precisamente il nostro Valerio sul sito aveva fatto un commento dove ci dava praticamente un segnale per poter entrare short io l'ho colto volevo fare l'articolo ma lui mi ha preceduto sono entrato al ribasso da questi livelli da 0-89,20 i prezzi continuano a lateralizzare staremo a vedere il nostro stop loss sappiamo benissimo dove metterlo siamo in leggero profitto di una trentina di pips più o meno manteniamo la posizione attenzione alle sides perché questo cross è in una fase di indecisione comunque il primo target si trova intorno a 88-70 ma intorno a quella posizione io non toccherei niente in quanto penso che si possa spingere fino a 0-87,50 questo cross comunque staremo a vedere ed anche qui ci aggiorneremo mercoledì sera passiamo subito agli ordini che vi avevo consigliato di impostare su euro-dollaro e sull'Italy sull'Italy 40 passiamo subito a euro-dollaro anzi passiamo prima all'Italy 40 su questo indice in particolare vi avevo consigliato un'entrata long intorno al livello di 17.000 questo non è venuto il cross ha continuato ad andare verso l'alto vedete anche la Kijun come segue bene i prezzi la nuvola anche c'è stato un rialzo veramente sostenuto come target finale abbiamo un 17.450 ma anche oltre la stagionalità dice che si può andare anche oltre detto questo che cosa fare adesso? aspettare nuovi segnali da parte del nostro indicatore qui avevo selezionato un'altra fascia importante di prezzi 17.100 ma come vedete la Kijun ha già recuperato anche questa fascia di conseguenza aspettiamo un nuovo ritracciamento e vediamo se troviamo nuovi spunti per andare long su questo strumento persa questa occasione però oggi sul sito ho messo un articolo su l'S&P 500 andiamolo a vedere se andate sul sito vedete l'articolo che ho fatto io in data odierna 24 ottobre cosa ho consigliato? ho consigliato dopo vista la rottura e rialzo di questa importante fascia di prezzi ho consigliato un long da questi livelli intorno a 2150 ovviamente con size ridotte in quanto c'era ancora la nuvola ribassista adesso come vedete si sta per formare una nuvola rialzista ma andremo a vedere andremo a vedere nei prossimi giorni come andrà detto questo come target abbiamo 2170 e 2195 primo e secondo target vedremo se questa operazione andrà in porto stop come sempre al di sotto della linea Kijun ovviamente chi segue le sessioni sa bene come applicare lo stop quindi discorso indici chiuso ci rimane il discorso Yen vi invito ad andare a vedere il mio articolo su investire.biz che avevo fatto ancora qualche tempo fa qualche giorno fa se scrivete Audi Yen questa era la mia visione su questo cross leggete l'articolo ovviamente questo è uno dei piccoli stop che abbiamo preso di circa 20 pips 30 pips giustamente ve lo faccio vedere eccolo qui avevo consigliato un'entrata inizialmente a 79 poi non c'era stato questo ritracciamento quindi avevo consigliato un ulteriore long a 79,55 come potete vedere poi siamo andati in stop loss a 79,27 è decisamente uno stop molto stretto quindi nessun problema questo stop loss però cosa ci ha detto ci ha fatto entrare su euro contro yen euro contro yen andate a vedere la video analisi che avevo postato l'ultima avevo consigliato uno short da questi livelli se l'operazione su Audi Yen non fosse andata a buon fine e di conseguenza lo yen si sarebbe apprezzato ulteriormente avevo consigliato uno short alla rottura di questa fascia di prezzi qui che andrete a vedere che troverete sulla mia ultima video analisi avevo quindi consigliato uno short sul rimbalzo sul rimbalzo di questa linea Kijun o comunque di questa fascia di prezzi importanti che avevo spiegato molto bene nella video analisi detto questo abbiamo avuto il segnale su euro yen siamo scesi siamo arrivati quasi a target a 112,60 il target impostato è 112,50 facciamo attenzione comunque anche a qualche pips più in alto in quanto si trova una zona piuttosto interessante si potrebbe andare a chiudere anche qui a 112,70 comunque anche questo sarà motivo di studio mercoledì sera alle 18.30 con questo io direi che ho chiuso se mi sono dimenticato qualcosa non esitate a scrivere dei commenti al di sotto di questa video analisi sarò molto felice di rispondervi sarò inoltre felice di incontrarvi alla Borsa Italiana se sarete presenti per fare due chiacchiere e per conoscerci detto questo vi aspetto su investire.biz nei prossimi giorni vi invito a continuare a fare articoli ottimi come state facendo io continuerò a fare gli aggiornamenti ci vediamo mercoledì sera alla sessione alle 18.30 con questo ragazzi io vi ringrazio vi saluto e vi auguro un ottimo trading e vi ringrazio